Ben ritrovata in una nuova puntata di Motore Salute Europa. Oggi parliamo del progetto europeo TerraGlio. Sentiamo il dottor Alessandro Perin che ce lo spiega. Dottor Perin, cos'è il progetto TerraGlio? Il progetto TerraGlio nasce nel 2013 all'interno del framework per la ricerca numero 7, quindi un bando europeo finalizzato e poi finanziato per 6 milioni di euro, del quale il Besta e il dottor Di Meco è il coordinatore. È un progetto che ha come obiettivo il glioblastoma, cioè il tumore più frequente e più maligno che colpisce l'uomo. Purtroppo per questo tipo di tumore non esiste ancora una cura in grado di debellarlo, di risolvere il problema. Per quanto noi siamo accurati nella resezione neurochirurgica del tumore e per quanto poi chemioterapia e radioterapia cerchino di eradicare le cellule residue, purtroppo questo tipo di tumore ricidiva a distanza di qualche tempo. L'obiettivo, lo scopo del TerraGlio è quello di creare una piattaforma multimodale per diagnosticare, ecco quindi la parola TerraGlio, teranostica applicata al glioma, quindi diagnosticare meglio questo tumore, visualizzarlo meglio durante la resezione, mediante microbolle di nuova generazione. Queste microbolle possono essere viste al microscopio operatorio, mediante ultrasuoni, quindi durante un'ecografia intraoperatoria, e queste microbolle possono anche veicolare dei chemioterapici in grado di uccidere queste cellule.